Nome? Gianmarco. Nicola. Cognome? Bartolini. Di Cerbo. Data di nascita? 7 febbraio 96. 1100. Dove vivi? A Salerno ma sono di Cagliari. Salerno. Come mai Salerno? Salerno perché la miglior gente, la migliore palestra si trova proprio qui. Perché mamma mi ha procheato qua, non lo so. Che sport pratichi? Danza. Ginnastica artistica. Ginnastica artistica. Nome della tua squadra di ginnastica? Società ginnastica Salerno. Ginnastica Salerno. Ultimo traguardo raggiunto con la tua squadra? Abbiamo vinto il campionato italiano di Serie A. Scudetto di Serie A. Quante ore ti alleni al giorno? Troppo. 6-7. 24. 6-7. Hai fratelli? Uno di 30 anni quasi. Una sorella. Hai sorelle? Sì, una adottiva. Sì. Hai un soprannome? Bart. Iadic. A quanti anni hai iniziato a fare ginnastica artistica? Ho iniziato 18 anni fa, ovvero all'età di 4 anni. 5. Ginnasta preferito della tua squadra? Presenti esclusivamente. Giovanni Basile. Giovanni Basile, escluso e presente Maresca. Bartolini. Presenti esclusivi. Antonio Visone. Ginnasta preferito in assoluto? Coe Ucimura. Iro Iubito Mita. Attrezzo preferito? Trave. Corpo libero. Anelli. Attrezzo che odi? Anello e cavallo con maniglie. Quello che non faccio, cavallo. Elemento che odi? Tutti gli anelli, praticamente. Zuccaro abitato. Elemento preferito? Il triplo, corpo libero. Rondini agli anelli. Hai qualche fobia? Tutti gli insetti. Tutti gli attrezzi. Tu o lui? Chi è più forte? Lui. Io. Chi è più elegante? Lui. Io. Chi è più simpatico? Lui. Lui. Chi è più bello? Lui. Chi è più modesto? Io. Lui. Chi è più permaloso? Io. Stesso livello. Chi è più ritardatario? Jimmy sempre. Qualsiasi... sempre. Io. Da 1 a 10. Quanto sei? Generoso. 8. 12. Scaramantico. 10. 10. Competitivo. 20. 8. Goloso. 100. 12. Testardo. 1000. Orgoglioso. 1000. 1000. Timido. Poco. 0. 10. Scegli. Facebook o Instagram? Instagram. Instagram. PlayStation o Xbox? PlayStation. PlayStation. Pizza o sushi? Pizza. Sushi. Carbonara o lasagna? Un po' e un po'. Carbonara. Carbonara. Discoteca o divano? Divano, sempre. Discoteca. Cane o gatto? Dipende dai periodi. Gatto. Cane. Angelo o diavolo? Diavolo. Diavolo. Cinema o bullying? Cinema. Cinema. Sei fidanzato? Sempre. Con Nicola. Canzone preferita? Non ne ho una in particolare. Amore amaro. Cantante preferito? Salvo. Tedua. Sai cucinare? Fin troppo bene. Meglio Nicola. Se non avessi fatto ginnastica, che sport avresti fatto? Becchino. Anche se non è uno sport. Fattinaggio artistico. Box. Serie tv preferita? Stranger Things. Non le guardo. Hai tatuaggi? Se sì, quanti? Cedio e non ti so dire quanti. Mostracene uno. Sette. Da chi accetteresti un invito a cena? Da Antonello di Centro. Da Belen. Il ricordo più bello della tua carriera fino ad oggi? Il primo mondiale nel 2014. Lo scudetto in serie dell'anno scorso. Il tuo sogno più grande? L'Olimpiadi. L'Olimpiadi. Saluta. Ciao mamma. Ciao. Ciao. Di qualcosa al tuo compagno. Niente, ci vediamo tra 1-20 da. Sei meraviglioso?